Giulia Delellis ha dichiarato di essere soddisfatta del suo percorso nella casa del grande fratello Vip Lui. Dopo la mancata vittoria ha confessato a fanpage una cosa insolita che sarebbe avvenuta al momento del televoto in cui si è sfidata, perdendo, con Daniele Bossari.Leggi anche meno maggiore di Giulia Delellis grande assente da Barbara Dursun. C'entra l'amicizia con i Rodriguez.La mancata vittoria al GF non credo sia dipesa dalle bimbe, ma da altre situazioni in merito alle quali non voglio entrare. Non è chiaro nemmeno a me, ma penso non dipenda dal fatto che le bimbe non siano state potenti, anche perché quella sera tutte le mie fanpage furono chiuse, compresa quella delle bambine. È accaduta una cosa molto particolare, ma sono stata felice del mio percorso. È andata bene così. Leggi anche meno maggiore di Ignazio Moserro ha buttato l'agendina con i voti. Armadio. Perse ore su una non notizia la Delellis ha dovuto affrontare molte critiche all'interno della casa e ha dovuto far fronte a molti attacchi dall'esterno hanno provato in tutti i modi a sporcarli, ma non ci sono riusciti. A quella persona che mi ha dato della feccia umana preferisco non dire niente. È incommentabile. Sul fatto di essere stata definita esperta di tendenze chiarisco quelle parole non sono uscite dalla mia bocca. Fu un'etichetta che mi fu cucita addosso da loro, non so su quale base. Io sono una influencer, lavoro sui social. Non dico che basti questo. Grazie a tutti.